L'ex moglie del centrocampista svizzero Blerim Zemaili lascia tutti di stucco con una frase sulle escorte sulla città di Milano, ecco cosa rivela al programma Le Capitan e su Spiket. Blerim Zemaili moglie, la modella non si regola e confessa che Blerim Zemaili e la moglie Eriona Suleimani hanno annunciato la loro separazione lo scorso 24 novembre, a soli due anni dal matrimonio e dalla nascita del piccolo Luan. Il centrocampista svizzero ha fatto sapere tramite una nota del suo legale che la sexy albanese non è in alcun modo più tenuta ad utilizzare il cognome dell'ex marito in ambito lavorativo come modella e presentatrice. L'escorts a Domaso sconvolge il pubblico, al festino c'era un pavolone coperto da Inoltre Blerim Zemaili, che in Italia ha militato nel Torino, nel Parma e poi nel Napoli, ha dato mandato al suo avvocato di agire a tutela dell'onorabilità e riservatezza propria e del figlio qualora la signora Eriona parli di vicende personali e private che debbano rimanere tali. Blerim Zemaili moglie, dopo il divorzio l'accusa pesante contro il giocatore. La modella, volto del programma Le Capitan e su Spicche TV, non si è lasciata intimidire dalle parole dell'ex marito e anzi ha lanciato una frecciatina contro il calciatore in generale, che sta facendo discutere il popolo del web. Più gli uomini sono ricchi, più tradiscono, ha tuonato la Suleimani, ci sono dei giocatori seri, e che tengono alla famiglia, ma ho conosciuto anche i giocatori per i quali la famiglia è un hot-scene. La stoccata finale destinata a mandare su tutte le furie, li transita nelle squadre del capoluogo Lombardo e particolarmente tagliente. Molti vivono anche a Milano, che ormai è diventata la città delle escort, ha puntualizzato l'ex moglie di Blerim Zemaili. Grazie. 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 Grazie.